giornataccia ragazzo tu sai che io vivo solo vero certo certo ma ci sono io professore appunto è anche male accompagnato non intendevo confidarmi volevo solo dire che purtroppo non c'è nessuno al mondo che mi dica cosa devo fare ma come professore un uomo libero come lei non tollerò le offese veramente io cioè non mi pareva certo che è un'offesa se tu leggessi meno e guardassi di più ti accorgeresti che nell'era del transdemocratico un uomo libero è un uomo che opina opina sempre e non pensa mai praticamente un cretino non sono un uomo libero sono uno spirito libero io un artista l'unico dopo voltaire e per conservare questo mio spirito è ovvio che ho bisogno di catene e con l'illuminazione del mese prendi appunti la schiavitù è un bene prezioso ma come professore lo so lo so l'ideale sarebbe una schiavitù imposta da se stessi ma in mancanza di meglio anche da altri la libertà fa malissimo scrivilo mi dispiace professore ma questo non lo condivido dunque da uomo libero non lo scrivo tu più che libero sei deficiente ma questa non è una primizia si sapeva ora ascoltami attentamente è solo la lotta per la libertà che fa bene l'esercizio per la libertà fa schifo sai chi lo ha detto veramente no l'ho detto io mi pareva il suo stile se non ti piace il mio stile diretto sarò più letterario bisogna liberare l'individuo dal sottile disagio della libertà oppure sarò più pratico ci sono e ci vogliono le libertà la libertà non è mai esistita sai chi lo ha detto certo professore lo ha detto mussolini allora questo non va bene non la scrivere te la cambio subito la libertà è una ridicola religione moderna scrivi questa che suona bella laica professore ma se proprio grazie alle libertà che un artista come lei può esprimere tutto quello che vuole da tempo non mi aspetto da te obiezioni intelligenti è proprio agli artisti che la libertà ha fatto male i cassieri la scoprono meglio l'arte deve avere le sue gabbie e i suoi obblighi e non solo quelli del proprio specifico ma soprattutto quelli della necessità e della qualità si producono troppe schifezze in nome della libertà di espressione ed ecco l'idea scrivila solo una rigidissima censura ci può salvare dallo spappolamento che fai impallidisci voi intellettuali avete sempre avuto una paura angosciosa del cremlino non sto parlando di quello e ora che devi impallidire sto parlando di dio un dio che giudica la qualità e vi censura ho capito uno che non sbaglia mai sulla qualità ma com'è possibile ammetto che in mancanza di dio la cosa non è facile purtroppo non c'è nessuno che in qualche modo potrebbe non è vero professore c'è lei questa è un'obiezione intelligente se avessi tempo potrei farlo guarderei un quadro leggerei le bozze poi andrei dall'artista e lei non deve scrivere glielo proibisco e lui indignato ma come non scrivo più che libertà è questa io vado in america e così ci liberiamo di qualche cretino professore ma non è mai venuto in mente che il cretino potrebbe migliorare rarissimo comunque sei troppo occidentale ti è insopportabile il sopruso fatto su un individuo e non ti spaventa mai il sopruso che si fa su tutti gli individui costringendogli assorbirsi una valanga di cazzate ma uno può sempre sottrarsi era qui che ti aspettavo non ci si sottrae al grande squagliamento vedi tutte le schifezze che circolano penetrano e fanno male alla salute di chi in qualche modo è costretto a respirarle ecco perché quasi quasi preferisco una società come quella russa dove può succedere che un genio sia considerato un imbecille pericoloso a una società come la nostra dove un qualsiasi imbecille pericoloso diventa un genio c'è da pensarci e forse nei panni di un Sogeniski sarebbe interessante ritirarsi in Siberia e scrivere l'arcipelago svizzera illuminante professore credo di aver capito a fondo come una libertà del nostro tipo porti inevitabilmente alla distruzione dell'individuo è l'ora di fare un gesto di coraggio e trasferirci tutti in luoghi dove si rischia una certa libertà sono pronto a seguirla sì ma vai avanti tu che a me mi viene da ridere grazie ancora una volta a chi mi avrà seguito dal vivo e grazie a tutti quelli che mi ascolteranno di seguirmi con questa è un'altra trasmissione radio che io ho trasmesso in diretta e che poi rimarrà podcast ciao a tutti dal vostro sentenza un'altra mia breve riflessione grazie a tutti